Poco dopo le 7 di stamattina i vigili del fuoco hanno operato in fondamenta Lorenzo Radi nell'isola di Murano a Venezia per l'incendio divampato all'interno di un'abitazione. Quattro persone sono rimaste intossicate. I pompieri accorsi con tre autopompe lagunari e 12 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme che hanno interessato la camera da letto del primo piano, altre stanze e il tetto sovrastante. Quattro persone che nelle prime fasi dell'incendio hanno respirato del fumo sono state portate in ambulanza all'ospedale per ulteriori accertamenti. Le operazioni di bonifica e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare le cause delle fiamme sono terminati dopo alcune ore.